Gianni, è di Cadoria, una studentessa, Futura Andella, numero uno, un applauso, grazie. E' già pronta la numero due, Padovana, studentessa e modella. Un bel applauso a Marta, grazie. C'è Sestena e Padovana. Ovviamente i ragazzi indossano l'ambito caos. E' arrivato, sarete anche voi a condizionare la giuria con i vostri applausi. Io vi presento la numero tre, fate per lei un grande applauso, si chiama Loreana, 21enne di Albignasi, coperista, futura estetista. Un applauso per la numero tre. Siamo pronti anche la numero quattro, Cristella, ventenne di Ligena, anche lei, della provincia di Padova. Cristella è la numero quattro, attualmente disoccupata, però ben addestrata a fare la maestra d'asilo. Se vuoi Cristella è l'asilo, va ancora da asilo. Il momento della numero cinque, lei si chiama Giulia, giovanissima, 17enne di Campodanzico, studentessa, futura modella, Padova. E abbiamo la numero sei già pronta, Zeudi, ventenne anche lei di Padova. Gli applausi per le sanno pane, studentessa, per il sogno di fare la botella, questa è la sfinata Miss House. La numero sei, lei è una ventiquattrenne, si chiama Giulia, di Fontaniva, studentessa, udite, udite, cosa vuol fare da grande? Il bioingegnere, ma ti retti conto? Io, la bioingegnere, brava Giulia, numero sette. E abbiamo anche la numero otto, già pronta Valentina, si chiama Velle di Piazzola sul Varenta. Padova anche lei, studentessa, con il sogno, e ovviamente sta studiando per fare avvocato. Un bel applauso! La nostra giuria intanto le guarda, le nota, le scruta, le valuta. Ciccio, un professionista. È il momento del numero nove, lei si chiama Alessandra, prego Alessandra. 23enne di Emanoterme, barista, futura estetista. Un applauso per Alessandra, grazie. La numero dieci, Beatrice, 18enne di Maserat. Un bel applauso! E la numero dieci, aspirante di Miss Kaos. Anche lei disoccupata? No. Il personaggio di Piazzola Modetta? No, magari non è. La mia max organica scratch. Vai Max! Magico! È il momento della undici, io ve la presento, lei si chiama Silvia. Secondo nome è Filippo. Ma scusa, ma lo sovista. Lei si chiama Silvia, 22 anni di Piondino, è una barista e fa l'indostatrice. Facciamo un grande applauso a Silvia. Ha la faccia da Filippo, però. Non so dove mai, ma la faccia da Filippo. Fate sentire il vostro applauso, proprio della Valle. Potresti fare la perolino, lo sai. Andiamo ancora a 1.12, Italia. 21enne di San Martino di Lumpari. Perché lei, come dice di Padova, è un padovano. E' vero! E' impiegato, insomma. E' un padovano. Tutto è giusto. Ciao, Fede! E' il momento della numero 13, prego, Federica. Siamo qua, Fede. Lei è giovanissima, ha 16 anni, anche lei è padovana, studentessa, personal shopper. C'è uno di quelle che ti fa spendere i miliardi. Un applauso, grazie, Federica. E' pronta la numero 14, Beatrice Ventenne Padovara. La città studentessa, un bel applauso, Beatrice, grazie. E' meglio che te lo sposi un imprenditore, piuttosto che diventare il prenditore. Ed è il momento della numero 15, prego. Anche lei molto giovane, 17enne, si chiama Jessica. Viene da Libera e visto che è giovane, ancora una studentessa, sicuramente fa la modella. Un applauso, grazie. E per finire, aspirante Miss Kaos, la sedicesima e ultima di queste pretendenti ragazze, Claudia, sedicenne di Villafranca, studentessa, con il sogno di diventare una professionista psicologa. Applaudite, potete sentire il vostro applauso, incoraggiate. E non è facile fidare su una passerella come questa. Grazie Claudia, la numero 16. Va bene, mentre i giurati valutano la sedicesima, ragazza. Guarda lo sguardo di Ciccio Pensina. Guarda Ciccio. La parola, la parola, che vanno il caos, veramente un piano di canzone. Salve il ragazzo e viva la no! Essendo la numero 2. Giovane, 17enne, Padovana. Padova, fatti sentire. Lei è Marta, prego Marta. Sudete, futura modella. Anche a noi, come tutte le ragazze, come me, Marco e Dostra, Gliottiani, Salmo e anche Gliottino. E già pronta la numero 3, Luritana, Ventonelle di Alpignasego. Attualmente io sono la barista, ma già studiato per diventare estetista. Un bel applauso, grazie. Questa è Miss House. Ti presento la numero 4, prego. Lei si chiama Cristel, Ventonelle di Milena, futura maestra d'asilo. Un applauso a Cristel, grazie. La numero 5. Lei si chiama Giulia. 16 anni, di Capodaccio, studentessa. Indominate, futura moderna. Un applauso anche per le ragazze. C'è il momento numero 6. Lei si chiama Zeudi, ventenne, Padovana, studentessa. Futura Modella. Un applauso. Un applauso a Pio Ingegniere. Un applauso a Pio Ingegniere. Siamo arrivati al numero 8, Valentina La vincione di Piazzona sul 30 Ecco qui che parte Come l'applauso, grazie La defensa con il sogno di diventare avvocato L'avvocato è un gruppo Nel momento del 9, Alessandra, 23enne Chiamano per l'escalista, l'escalista Un applauso, grazie Eccoci al numero 10 Pronta aggressiva, su costume e gli occhiali Sanno i ragni di Vigano Beatrice di Giofene di Matera Disoccupata perché si sta preparando Per un'opera di carriera da potenza Un applauso, aperatrice Un momento di finire di Silvia, scusate Un momento di Silvia, lei ha come agli uffici 22enne di Pioncino Barista, aseroina e indostratrice Un bel amore per te E' vero, è vero Sentiremo parlare di questa ragazza E' il momento del 1-12, Daria, la violenza Daria, 21enne di San Martino di Lumpari, attualmente impiegata e però si sta preparando per fare una bella carriera del commercialista. E' il momento del 1-13, giovanissima, 16enne, Padovara, Federica, studentessa, futura, personal shopper, un applauso a Padovara! Ed ecco è pronta un'altra piattafica numero 14, questa ventennia di Padova, studentessa, con idee chiare per chi vuole diventare imprenditrice! Un bel applauso a Padova, Federica, grazie! Questa è Miss Caos, ragazze di Caos a Milano, con vocali di San Martino di Piero! E' il momento del 1-15, prego Jessica, 17enne di Limea, tu le terza, futura modella, anche per me d'applauso! E poi per l'ultima, ma non l'ultima, come si dice in questi casi, la numero 16, anche lei molto giovane, 16enne, di Villa Franca, studentessa, futura, psicologa, lei è Claudia! E facciamo un applauso a lei, grazie! I nostri giurati scelti tra centinaia di migliaia di persone, adesso lo giudicheranno per l'ultima volta! E facciamo un applauso a lei! E facciamo un applauso a lei, grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei! E facciamo un applauso a lei, grazie a lei, grazie a lei! Grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei! Piazzo della Nuova Venezia, in coronata a Montagnana, complimenti, passarella per te è finale, grazie e complimenti a tutte! Lancio di Gadget al pubblico, prego! Lancio di Gadget al pubblico, prego!